Fabrizio Corona e Massimo Giletti, incontro a Milano per un programma insieme, foto, le foto dell'incontro segreto tra Massimo Giletti e Fabrizio Corona il settimanale Spy. Pubblica in esclusiva nel numero in edicola da venerdì 23 marzo le immagini del sorprendente incontro, avvenuto a Milano, tra Massimo Giletti e Fabrizio Corona Il giornalista e l'ex re dei paparazzi si sono incontrati davanti a un locale in centro a Milano e hanno passato diversi minuti a conversare I due sono amici da molti anni, ma l'incontro ha anche essere il preludio per la prima apparizione pubblica di Corona Con una intervista dai contenuti fortemente emotivi, o, come rivela Spy, addirittura per un programma insieme Progetti che per ora non si possono ancora realizzare perché Corona, per ordine dei giudici, non può rilasciare interviste, o stare sui social o telefonare se non agli avvocati e ai familiari pena la revoca della libertà Corona deve discutere ancora dinanzi al GIP del Tribunale di Milano la revisione dei termini della libertà Solo allora capiremo se, non è l'arena, riaprirai con un, Corona contro tutti Musica Musica Grazie a tutti.